Ecco 10 cose che non sapevate su Martin Scorsese. Il nostro buon Martin è cresciuto in una famiglia cattolica e da giovane è quasi diventato prete, ma salvo poi essere cacciato dal seminario per comportamenti inappropriati, ecco. Il buon Martin ha studiato cinema alla New York University e dopo di questo ha iniziato ad insegnare proprio alla stessa università. Tra gli studenti più famosi che hanno partecipato al suo corso spicca, niente di meno che il premio Oscar Oliver Stone. La terza curiosità riguarda una fobia che il regista italiano ha da sempre, ovvero quella per il numero 11. Questa lo porta a non viaggiare l'11 novembre o a non dormire in hotel all'undicesimo piano e cose del genere, quindi una vera e propria fobia e paura del numero 11. Chissà da cosa è dovuta. L'11 che ritorna e sono 11 i film che Scorsese e De Niro hanno creato insieme. È stato proprio Brian De Palma a presentare Robert De Niro al regista italiano americano e da lì il sodalizio tra i due è sempre stato un grande successo. Insieme a Steven Spielberg, Martin Scorsese è la seconda persona più nominata agli Oscar per la miglior regia. Il record è di William Wyler con ben 12 candidature agli Oscar. A proposito di Oscar, Scorsese è riuscito a conquistare la statuetta come miglior regia per The Departed nel 2007 dopo ben 40 anni di carriera e 20 film realizzati. Un record, se vogliamo, in negativo. Non so se avete mai fatto caso ma in Taxi Driver, dove il protagonista è Robert De Niro, Martin Scorsese interpreta un passeggero del taxi perché ha dovuto sostituire all'ultimo momento l'attore che doveva interpretare quel passeggero a causa di un infortunio. Non solo grandissimi film di successo nella carriera da regista di Martin Scorsese ma anche ben due video musicali. Il primo è quello di Bad di Michael Jackson e il secondo, quello della canzone Somewhere Down the Crazy River di Robbie Robertson. Insomma, un attore a 360 gradi. Sua madre Catherine compare in diversi film, in alcuni cameo. Quello più famoso è l'apparizione della mamma di Scorsese in Quei bravi ragazzi quando sono a tavola e la mamma, come dice il regista, ha improvvisato completamente ogni parola quindi un'attrice nata bisogna dire. Infine concludiamo con una delle curiosità più interessanti per quanto mi riguarda che riguardano appunto Martin Scorsese. Proprio il regista ha rifiutato ai tempi la regia di Schindler List in quanto Steven Spielberg aveva proposto proprio a Scorsese di dirigere il film sull'olocausto ma il regista italo-americano decise che un regista di origine ebraiche come è proprio lo stesso Spielberg sarebbe stata la scelta migliore per un film di quell'importanza. Insomma ragazzi, veramente delle curiosità interessanti che io personalmente non conoscevo fatemi sapere se voi conoscevate alcune o tutte delle curiosità o magari ne conoscete altre con un commento qui sotto per parlare di Martin Scorsese, uno dei registi migliori che il cinema ha visto. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui spero che vi sia piaciuto questo video diverso di curiosità e noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando seguite i nostri canali social nel link in descrizione e qui sotto Facebook, YouTube e Instagram. Ciao a tutti, buona giornata!